Baldarelli e Giorgia Chiara Ha potuto conoscere da vicino che cosa vuol dire fare il sindaco di una città come Fano. Giorgia Chiara Baldarelli, residente a San Lorenzo in Campo e studentessa della Quinta B dell'Istituto Olivetti, ha affiancato Massimo Seri in tutti i suoi impegni amministrativi per un'intera giornata, dalle prime ore del mattino fino a sera tardi. Ha partecipato infatti a diversi appuntamenti, dalle conferenze stampa all'incontro per la difesa della costa, passando insieme a Seri anche i momenti di pausa. Un'esperienza da primo sindaco per un giorno che verrà ripetuta ogni mese. Ogni volta verrà scelto un cittadino che mostrerà la sua disponibilità e il suo interesse a conoscere la pubblica amministrazione. Tutti coloro che fossero interessati all'iniziativa possono inviare la richiesta all'indirizzo mail sindaco chiocciolacomune.fano.ps.it o telefonare allo 0721-887-264 o 887-201.